Scrive a proposito Giuliano Procacci nella sua Storia degli Italiani Con quella guerra, con la guerra, vastissimi strati sociali, il cui mondo era stato sino allora circoscritto entro un orizzonte provinciale, venivano costretti per forza delle cose a prendere coscienza del loro destino comune e dell'esistenza di una collettività nazionale. La Prima Guerra Mondiale divenne, cioè la prima grande esperienza collettiva del popolo italiano che oltretutto portava a compimento il risorgimento. Questo senso di partecipazione unitaria costituisce forse ancora oggi un elemento importante su cui riflettere, tanto più in una fase in cui per ragioni diverse, la crisi economica, la globalizzazione, la fragilità dell'esperienza europea, è sempre più difficile avvertire un sentimento di comune appartenenza. Il nostro pensiero non può non essere rivolto oggi comunque ai tanti caduti, a quella generazione di giovani che fu falcidiata da una lunga e logorante guerra consumata nelle trincee, in condizioni disumane, alla mercè di malattie, intemperie, parassiti.